La ricerca clinica è una grande opportunità, una grande opportunità soprattutto per i pazienti perché consente di accedere prima della registrazione a farmaci innovativi. E' estremamente importante continuare su questo fronte della ricerca clinica, tanto che ci siamo attrezzati con un trial office, con due data manager e con i medici e gli infermieri di ricerca che chiaramente contribuiscono in maniera determinante a andare avanti a questa attività. Siamo al momento impegnati in 26 protocolli di ricerca che naturalmente non possono che conferire qualità e eccellenza al nostro reparto e al nostro ospedale. Grazie a tutti!